Il Cagliari che arriva da una sconfitta in una situazione difficile, che avversario si aspetta? Il Cagliari è una squadra che non è certo stata costruita per essere nella posizione in cui si trova e hanno dei giocatori forti, importanti, una partita difficilissima, mi aspetto una partita difficilissima come poi lo sono tutte le partite nel nostro campionato e noi dovremmo essere al meglio perché se non saremo al meglio le difficoltà saranno ancora superiori. E a proposito di essere al meglio, com'è la situazione dei recuperi, degli infortunati e i recuperati cosa potranno fare? Quanti minuti hanno nelle gambe? Allora, i recuperati, io adesso non ho il mio foglio qua, i recuperati ci sto pensando l'unico che recuperiamo è Biraschi. Non si è veloce? No, veloce certamente no, Giuseppe ha fatto un allenamento intero ieri e quindi oggi ha riposato perché era tutto programmato e domani si allenerà però direi quasi certamente non sarà disponibile per la partita. Quindi l'unico che recuperiamo è Biraschi. Buongiorno mister, ha parlato di partita difficilissima, quanto sarà importante conquistare anche un fallo dal limite per sbloccare la partita? Che sono un po' di contingenze che mancano a questo Genoa dal punto di vista... Sì, sì è vero questo, è anche vero che sarà importante fare una partita di grandissima attenzione, di grande intensità perché il Genoa ha dimostrato che se è attento, se è tanto tanto intenso in ogni fase della partita le difficoltà le crea. Se non c'è quella attenzione, quella intensità, quella fame che abbiamo mostrato in tante partite tutto diventa più difficile, quindi sarà importante per noi l'attenzione, la corsa, la tanta corsa e quella voglia, quelle motivazioni, quell'umiltà che fino ad oggi per noi sono state... sono quelle caratteristiche che ci hanno permesso di fare la differenza. Non sarà una domanda, perché sono difficile, hai già risposto, Turandotto, Puccini, Laroni, il dottor Roy. Fate imprestare, nessun dorma per domenica? Mettilo dentro lo spogliatoio per iniziare la partita. Nessun dorma, però nessun dorma ha una cadenza un po', eh? Meglio no. Ecco, nessun dorma si fa dormire, quindi le mer... no, via, ecco, ecco. Prego. Buonasera, mister. Buonasera. Per fare un parallelismo con quello di cui si parlava prima, con Paesano Muti, la tipicità di un direttore del Cresta sono le mani, le braccia. Cosa si aspetta da se stesso, da lei, come gestualità in campo domenica? Da me? Sì, lei, verso i suoi giocatori, cosa si aspettano nel suo modo di gestire? Ah, cosa si aspettano i miei giocatori? Sì, che urli, che sbracci, che cosa si aspettano? Come li ha organizzati? No, io non è che mi muovo tanto, urlo. Fortunatamente, fino ad oggi, le prestazioni sono state prestazioni buone, con ordine, come ho detto anche prima, c'è stata attenzione, ordine, c'è stata anche molta serietà, molta determinazione. Quindi, per ora, sono state fatte davvero tante partite giuste nell'atteggiamento. Quindi, poi succede, durante la partita, che c'è magari un giocatore che non è ben posizionato, allora lo richiami, c'è un giocatore che invece ti fa una corsa in più e quindi ti complimenti con lui. Quindi i gesti sono tanti, dal richiamo al complimento perché ci sta sia il richiamo per così sollecitare un giocatore a fare ancora meglio e al complimento perché ci sono davvero nella nostra squadra tanti giocatori che vanno oltre il proprio compito. Quindi, c'è un po' di tutto. Torno io di nuovo. In settimana abbiamo lanciato un po' un hashtag, chi è Ballardini? In tanti ci hanno risposto. Poi è arrivato il capo di Bologna, ma adesso le chiedo, come si descriverebbe chi è Ballardini, raccontato da Ballardini? Penso una persona semplice, una persona semplice, per bene, che ama quello che fa. Quindi questo è un po' curioso, sono sempre molto curioso perché se hai una passione non puoi non essere curioso. Quindi una persona semplice, per bene, curiosa, che ha una passione, che la passione è il suo lavoro e quindi che si sente un privilegiato. Buongiorno, io volevo fare una postilla, non era una domanda a lei, era una postilla all'evento che è stato presentato prima, cioè che ha un'illustre precedente, a mio modo molto significativo, cioè nel senso che nel 1937, a partire dal 4 luglio, il Carlo Felice mise in scena una stagione estiva a Luigi Ferraris. Ci furono 13 rappresentazioni con la bellezza di 150.000 spettatori complessivi e furono rappresentate opere importanti, cioè la Tosca, Rigoletto, la Boheme e l'Oengrin. Questo fatto è documentato nella mostra Semodusena, tutta un'altra musica attualmente in corso al Museo della Storia del Genoa, nella nuova sede del Porto Antico, in cui colgo l'occasione per invitare il mister, che era stato già nella vecchia sede, aveva lasciato una bellissima dedica. Mi sembra comunque un fatto importante, perché si ricollega la storia all'epoca nel 1937, c'era solo il Genoa, quindi non c'era il fatto unico, che si ricollega oggi, sempre nell'ambito della musica e dell'opera. Grazie. Grazie a lei. Dopo Bologna forse è stata la prima volta in cui ti abbiamo visto un po' deluso, forse è stata la prima prestazione un po' che non ha l'altezza. Ti chiedo se questa fame di cui tu parli sempre, che questa squadra ha avuto fino a Bologna, c'è rischio di perderla una volta arrivati in zone più tranquille di classifica? Adesso c'è possibilità di fare un salto di qualità oppure c'è rischio di perdersi un po'? No, no, ero dispiaciuto, ma perché intanto lo sappiamo bene che se non abbiamo quelle prerogative, noi facciamo fatica, facciamo molta fatica. Quindi è successo con l'Atalante, è successo con l'Udinese, è successo anche con il Bologna, che magari abbiamo anche avuto più occasione degli avversari, quindi magari quella è una costante, ma se non hai, se non hai, è la moglie, rompono le balle, ecco nel nostro caso se non hai quegli ingredienti, noi siamo una squadra un po' fragile, ecco, magari siamo anche così carini da vedere, però gli altri sono, diciamo così, con meno fatica, sono più solidi. Noi per essere solidi dobbiamo fare tanta fatica, tanta fatica nella testa, tanta fatica proprio nelle gambe e allora riusciamo ad essere solidi e riusciamo ad essere così molto competitivi. Gli altri probabilmente facendo meno fatica sono più solidi e più competitivi, questo è chiaro, ecco. Invece di un'assenza, quella di Talhout, che abbiamo visto adesso con i capelli biondi, ti chiedo quando tornerà e cosa ha avuto, cioè perché adesso sono pari... Ma lui ha un dolore alla schiena che adesso speriamo sia in via di guarigione, però ecco, lui il fastidio che ha, che così lo condiziona molto nella corsa, è il mal di schiena. Quando potrebbe tornare? O la speranza sarebbe magari vederlo lì al campo la prossima settimana, poi dopo non ti so dire quando si allenerà con la squadra. E invece Rossi, che appunto avete rivisto in gruppo, diciamo, quando pensi che potrà essere? Allora, io dicevo ieri a Giuseppe che sarebbe lui da denuncia, perché ci priva nel quotidiano di quel che lui è capace di fare, no? Perché purtroppo per lui, insomma, tutti questi infortuni, poi piccoli o grandi infortuni che ha avuto, hanno privato lui, hanno privato noi di vedere davvero un ragazzo che con la palla è una cosa sola. Quindi la speranza è quella di vederlo la prossima settimana, allenarsi tutta la settimana con la squadra. Questa è la nostra speranza. Siamo a posto. Mister, con la partita di domani inizia un ciclo di gare in cui sarete spesso al Ferraris. Se non sbaglio sono cinque sulle prossime sei, compreso il derby. È un fattore che può essere importante per voi quello di recitare nel vostro teatro per rimanere in tema? Ma direi di sì, direi di sì perché sei davanti a chi ti vuole bene, chi ti sostiene dal primo all'ultimo minuto. Quindi, insomma, è molto meglio per noi, credo, giocare davanti ai nostri tifosi perché i nostri tifosi davvero si fanno sentire e ti sostengono, ti spingono e ti stimolano. E quindi tutto questo aiuta a dare quel qualcosa in più. Ecco, quindi davanti alla nostra gente abbiamo sempre dato qualcosa in più fino ad oggi. Raramente abbiamo dato qualcosa in meno. Detto questo, davanti alla nostra gente forse viene non più facile, però, insomma, è breve, ecco, la strada per fare una corsa in più piuttosto che un in meno davanti alla nostra gente. Ultima curiosità, visto che ha detto che è andato a vedere al Festival di Ravenna Muti, ora che è anche lei ad avere la bacchetta, Muti verrà a vederla qualche volta? Beh, adesso Muti lo mandiamo in pensione, è vecchio, adesso ci sono io a Ravenna, adesso il Ravenna Festival lo fa lei. Ma lo sarò io, come si chiama, quello che... ma il direttore artistico, ecco, quindi lo mandiamo in pensione, adesso è chiaro. C'è anche la Cristina, che è la moglie, che è un problema, ecco, forse la moglie del maestro è un problema perché la Cristina è un po' più tosta. Grazie. 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 Grazie.